Benvenuti su Gossip Mania TV. Paolo Masella critiche sul web, Letizia Petris dice «Stavamo giocando a…». Prima di proseguire, se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità, ti chiediamo gentilmente di iscriverti al canale ed attivare la campanellina. Grazie. Nella travagliata puntata del Grande Fratello di ieri sera, Paolo Masella è stato al centro di numerose critiche per il suo comportamento, suscitando forte disapprovazione da parte del pubblico online. Due episodi in particolare hanno scatenato indignazione. Il primo riguarda la sua insistenza nel cercare di coinvolgere Giuseppe per screditare Beatrice, alimentando pettegolezzi sul presunto triangolo amoroso tra Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi e Vittorio Menozzi. Paolo ha spinto Garibaldi a parlare di dettagli intimi riguardanti Beatrice e Vittorio, mirando a danneggiare la reputazione della ragazza e ottenere visibilità televisiva una volta fuori dalla casa. Il secondo episodio, ancor più disturbante, riguarda una scena con Letizia che è stata censurata dal Grande Fratello. Durante un gioco, Paolo ha scherzosamente frustato Letizia con una cintura, fino a spingerla in un angolo del bagno con gesti bruschi. L'episodio è stato considerato agghiacciante da molti spettatori, soprattutto considerando il comportamento moraleggiante che Paolo ha mostrato in precedenza verso gli altri concorrenti. Questi episodi hanno sollevato una valanga di critiche contro Paolo Masella sui social media. Molti lo hanno accusato di ipocrisia, considerando il suo atteggiamento moralista e le sue presunte azioni medievali nei confronti di Letizia. Questa apparente incoerenza ha causato delusione e indignazione, soprattutto considerando l'immagine che Paolo aveva cercato di proiettare di se stesso all'interno della casa. Lascia un commento alla fine del video e seguici per gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. A presto con un nuovo video. Ci vediamo al prossimo Gossip.